Tony Cerullo, splendida tua partecipazione qui a SportEvent, hai le tue sensazioni al termine della diretta? È stata un'esperienza bellissima, ritornerevo l'entieri. Ah sì, ci rivedremo. Grazie Mario per il tuo conforto e sostegno al calcio, soprattutto dilettante. Il centro della pista è stato un guerriero, un combattente. Il tuo saluto a tutte le tue ex squadre, perché ex è brutto dirlo, ma hai lasciato in cuore vedere come hai partecipato nel commentare Casora Cerrano, vuol dire che ci sei sempre dentro. Scino La Cerrana, Palmese, San Giorgio, Cervinara, Inter Napoli, sono tutte società che dove metti piede, dove metti piede, ti rimangono dentro, visto che lasci il cuore e studi la maglia. Grazie Mario.